Non sono soltanto le facciate esterne a cadere a pezzi, è diventato praticamente impossibile vivere all'interno di alcuni appartamenti delle palazzine Ater di via Carlo Marocchetti a San Giorgio di Acilia. A causa di un tubo di scolo guasto, gli inquilini sono costretti a convivere con infiltrazioni d'acqua alle pareti, umidità e muffa. Sarà un anno, un anno e più, sì, un anno e mezzo quasi. E naturalmente adesso tutta l'acqua che non riesce a defluire bene ristagna addosso alla parete? Sì, sì, entra la muffa dentro casa anche. Lei ad esempio dorme in salone? Sì, perché è pieno di muffa in camera, io non ce l'ho mai avuta, adesso è pieno, giustamente fa male la salute anche. E diciamo che il problema ce l'hanno anche tutte le altre persone? Io penso di sì. Inoltre da alcuni mesi è presente una copiosa perdita idrica nel cortile delle palazzine. Nonostante le numerose segnalazioni, l'acqua continua a scorrere ininterrottamente, rendendo l'area esterna inaccessibile. Voi non potete neanche più andare in cortile? No, non si può passare qua sotto. È diventato pericoloso? Io un altro po' cascavo, perché affondi proprio col piede, ci hanno messo un cartone, però... Tra l'altro mi diceva che ha provato a contattare diverse volte l'Ater, ma non ha ricevuto risposta. Sì, la signora mi ha risposto due volte, mi ha detto faccio il sollecito e non è arrivato nessuno. Poi ho chiamato il pronto intervento e c'era la segreteria e non rispondevano. Io non sapevo che fare, mi sono rivolta a voi. Comunque spera che qualcuno si faccia vivo, si faccia sentire e riesca a risolvere almeno uno dei due problemi. Speriamo, perché poi anche l'acqua stagnante così vengono su zanzare, moschini, taglia forbici. Certo, poi lei vive proprio al primo piano, quindi in vista della stagione estiva il problema aumenterà. Infatti la notte ci stanno i topi che passeggiano perché le foglie sono tutte chiuse, tutte piene, sono proprio attappate. Escono e ci si fanno il bagno, bevono, fanno... qui sotto c'è il bevario dei topi proprio. Rischia di passare praticamente la stagione estiva con le finestre chiuse? Certo, c'ho paura infatti. Grazie. Grazie. Grazie.